Capita di ammalarsi, capita anche ai bambini, è bene che quando questi fatti accadono, che non sono colpa di nessuno, la malattia non è una colpa, ci mancherebbe, però la profilarsi invece è un dovere. E allora la segnalazione è arrivata alle 9 della mattina, intorno alle 11 e mezzo eravamo in testa, perché in realtà il protocollo lo dà l'ASL, in pista per poter garantire intanto tranquillità al complesso, ma soprattutto informazione ai genitori dei bambini che frequentavano le stesse sezioni per fare tutto quello che c'è da fare, per in qualche modo essere più tranquillizzati. Va detto che in questo caso il vaccino è un vaccino non obbligatorio, quindi se i genitori o gli operatori ritengono di non farlo, non lo faranno. Da parte nostra il dovere e il diritto di informare.